Musumeci come ti chiami? E di cognome? Musumeci, ci ho preso. Che anno? 2003? Sì. Sguarda? Selva Candida. Selva Candida. Quando non c'è la faccia, forza le mani eh? Sì, ok. Forza, vai in porta, vediamo che si fa. Nizio io, ma... 2003? Sì, io eh? Ciao. Eccolo. Bel tiro o Ciappolari E' la prima più lente la parola. E' la prima più lente la parola. Vai, vai, vai! Eeeh, questa è spiglia! Bravo, non sei male, vai se in caccia di lui. Vai, vai, vai! Su, su, su! Si! Diva! Diva! Eeeh! Artur, Artur! Vai, vai, vai! E' la pressione, adesso si ripulsa. Dai, Fede! Appena giù! Adesso, subito! Subito! Dai, dai, Fede! Ok, altra vai, basta così! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!